Facciamo l'assessore uguale, va bene? Assessore Barille, quest'anno la ventesima stagione di Termoli Musica vedrà una novità, si verrà all'auditorio un'idea in un recente inaugurato? Sì, proprio così, questa ventesima edizione come caratteristica avrà appunto la nuova location, ovvero gli eventi in programmazione si terranno presso il nuovo auditorium comunale di Via Elba. Così come abbiamo già detto in passato, la struttura nasce appunto con la filosofia di essere messa a disposizione insomma di un po' tutte le associazioni locali, tutti coloro che comunque promuovono la cultura attraverso questi appuntamenti, non solo di carattere musicale naturalmente ma di qualsiasi natura essi siano. La stagione concertistica Termoli Musica troverà quindi spazio all'interno del nuovo auditorium. Siamo felici di poterla mettere a disposizione anche per questa iniziativa che riteniamo importantissima, giunta oramai alla ventesima edizione e sostenuta in questi anni della nostra amministrazione puntualmente, perché riteniamo che sia un progetto validissimo, un progetto di musica di estrema qualità che comunque ha la necessità appunto di essere sostenuto e essere promosso anche all'interno della nostra programmazione. Quindi un plauso naturalmente all'Associazione Onde Serene, al maestro Pinonese che è il direttore artistico della stagione concertistica e naturalmente a tutti coloro, a tutti i partner che sostengono questa iniziativa, perché va sottolineato il fatto che comunque al di là dei sostegni pubblici che la stagione concertistica può ricevere, ma il vero valore aggiunto di questa programmazione di eventi viene dato appunto dai partner privati che comunque sostengono puntualmente ogni anno questo progetto. Quindi ci auguriamo naturalmente, sconfidiamo nella buona riuscita anche per il 2024 di questa stagione di eventi e speriamo naturalmente che venga apprezzata. Si continua a promuovere la cultura sul nostro territorio anche per questo nuovo anno? Certo, partiamo appunto, se vogliamo, il primo appuntamento, la prima conferenza stampa di presentazione di un appuntamento. Quindi, diciamo, inauguriamo così il 2024 con una degli eventi, appunto, una delle stagioni concertistiche più importanti della regione Molise, se vogliamo, in quanto rimane esclusiva, se vogliamo, oramai da 20 anni qui sul basso Molise. Quindi siamo felicissimi di poterla presentare anche per il 2024 e, ripeto, rinnovo naturalmente il ringraziamento all'Associazione Onda Serene, al maestro Pinonese, per essersi anche quest'anno messo a disposizione della nostra collettività. Forse qualcuno ancora non se ne sta accorgendo, ma Termoli sta assumendo sempre di più un'importanza panoramica nazionale con questi concerti, con questi nomi, come per esempio l'ultimo che arriverà in questo programma, Beppe Servillo, che non è uno dell'ultimo arrivato. Assolutamente, noi l'abbiamo sempre detto e lo sosteniamo. Attraverso questi appuntamenti, attraverso questi eventi che vengono organizzati qui nella nostra città, Termoli sta acquisendo man mano una importante risonanza anche a livello mediatico. Sono nomi importanti nello scenario musicale e quindi è normale che avere ospiti di tale calibro, insomma, danno quel plus alla nostra città. Ed è questa la linea sulla quale dobbiamo continuare a lavorare. L'obiettivo era questo, ripeto, ce lo siamo sempre prefissati e grazie appunto a queste collaborazioni siamo riusciti a mantenere questo standard nel corso dei cinque anni della nostra amministrazione a far sì che comunque nomi importanti come quello di Servillo possano approdare qui nella nostra Termoli.